No, non è tutto normale. Se l'approdo di tre mestieri è regolarmente funzionante, così come lo era la sera del 22 febbraio quando operava a pieno regime e con un'attesa per l'imbarco di appena 10 minuti, i tir in centro non ci devono essere. Questo sarebbe normale. Il fatto che nessuno ne abbia parlato per mesi non vuol dire affatto che il problema sia risolto, solo si è preferito lasciar correre ed infatti i tir sul viale Boccetta corrono ancora oggi come tanti anni fa. Le immagini del Tg di Tremedia hanno rotto il silenzio e forse non solo quello. Hanno dimostrato che l'ordinanza anti-tir dell'amministrazione comunale è regolarmente violata, che i controlli per lungo tempo sono stati carenti o addirittura assenti, che la società privata di traghettamento, caronte e turist approfitta di questa situazione di leggerezza complessiva, facendo imbarcare e sbarcare tir da Messina a Villa San Giovanni e viceversa come se nulla fosse. E il rischio derivante dal passaggio dei mezzi pesanti nel cuore di Messina sembra essere stato dimenticato, nonostante le vittime di incidenti del passato, anche recente. Anche dal sindaco Renato a Corinti, che da attivista raccoglieva firme per la chiusura della rada San Francesco, ma che da primo cittadino si accontenta della promessa di un porto di tre mestieri potenziato, in grado di accogliere tutto il traffico dei mezzi che attraversa lo stretto, che costerà circa 80 milioni di euro, ad oggi non tutti disponibili e che non ha ancora una data di inizio lavori. Intanto almeno ritornano le sanzioni per i camionisti che non rispettano l'ordinanza, mentre aspettiamo ancora l'installazione di pannelli elettronici direttamente in autostrada per indicare agli autotrasportatori quando sia consentito, come eccezione, utilizzare gli imbarchi del centro di Messina. Anche di quelli non si è più parlato.